Ciao a tutti e bentornati, allora oggi il menù prevede un ricco minestrone di fatti e personaggi che per un motivo o per l'altro si sono resi protagonisti in questo weekend appena trascorso. Da chi partiamo? Partiamo dalla smemorata convenienza che è la dama, la quale in questi giorni è stata davvero molto attiva contro chi? Contro Giuseppe Lothrop, Serena, Chiara, Davide, Carmen T e Vodka. Che salutiamo? Allora, cosa è successo? Vodka, visto il gran lavoro svolto dalla dama, ha voluto omaggiarla di un video per culo. Video tra l'altro apprezzatissimo da tutti tranne che dalla diretta interessata che adesso vuole addirittura denunciare e diffidare Vodka dal parlare di lei. Il tutto raccontato in una sua recentissima merdavigliosa live dove era partita al solito col criticare Chiara ma poi degli utenti le hanno chiesto un parere sul video di Vodka e da lì in poi si è scatenato l'inferno. Perché la mendace sorianese ha risposto, testuali parole, Io non ho dato a Vodka il permesso di parlare di me, né di fare parodie su di me. Quindi, dato che era già stato avvisato più volte, stavolta scatta la denuncia. E dieci anni di carcere non glieli leva a nessuno. Pensate a questa come sta messa. Comunque, ora, non per fare polemica, ma allora, seguendo quello che è il suo ragionamento, questo vuol dire che lei da Chiara ha ricevuto il permesso per diffamarla, minacciarla e denigrarla? Piacerebbe tanto vederlo, sto permesso a me. Comunque, in live continuano a riportare la storia del video di Vodka e la sorianese sbotta dicendo che le parodie di Vodka all'inizio le piacevano, ora non più. Beh, forse intendeva dire che le piacciono le parodie di Vodka solo quando non è lei la protagonista. Lei si dice non toccata minimamente dalla parodia, però gli dà di banderuola pesante e diffamatore. Questo giusto perché la cosa non l'ha toccata minimamente. E poi non poteva mancare l'ipotesi del complotto. Che lei non è né stupida e né soffre di manie di persecuzione ed ha capito benissimo che Eva, Chiara, Vodka e tutto il resto del mondo sta cercando di farla sbroccare per farle cadere il canale. Ma neanche l'intento di dissipare questo complotto a suo danno riesce a distrarla dall'attaccare Chiara sull'aspetto, su quello che spende, su quello che mangia, su quello che compra, si respira. Però guai a dire che è ossessionata da Chiara. A proposito di Chiara, ultimamente la sto trascurando un po'. No amore, non preoccuparti presto, tornerò ad occuparmi di te. Nel frattempo i trollini continuano con Vodka ed arriva a scrivere in chat una nuova utente e prontamente la dama parte con la cagata dal rito di iniziazione. Ops, ho detto cagata? Sì, volevo dire cagata. E per tutto il tempo viene spammato il numero di cellulare di Vodka, che salutiamo. Poi la dama parla del suicidio in diretta del ragazzo su TikTok che era stato tacciato di pedofilia. Qui i trollini si scatenano perché ricordano a dama che lei ha fatto la stessa cosa con Davide e lei al solito nega. Nega ad aver detto che Davide è un pantofolo. Allora, mi rendo conto che ci sono degli utenti nuovi che non conoscono bene tutti i passaggi, quindi per questo vado a fare un piccolo riassunto della faccenda. Allora, ascoltatemi bene cari. La dama, non moltissimo tempo fa, dall'alto delle sue merdavigliose live, affermava che Davide era stato colto in flagranza di reato con un bambino di 7 anni. E oltre a dire questa cosa nelle sue live, minacciava di rivelare l'intera faccenda con dei post dove scriveva stop la violenza sui minori, soprattutto quelli di 7 anni. Quando ad un certo punto, vista la gravità delle sue diffamazioni, alcuni suoi utenti cercarono di farla rinsavire. Vale niente, in perterrita andava avanti, dicendo che Davide era stato condannato ai lavori socialmente utili per questo suo vizietto di molestare i minori. Allora, questo ve lo sto raccontando io adesso, ma se volete sentirlo dire dalla calda e catarrosa voce di dama, andate a guardare le stories su IG di La Dama Bianca, che salutiamo e ringraziamo soprattutto per l'ottimo lavoro che svolge. Quindi, se volete la prova provata di quello che sto dicendo, andate su IG, andate a guardare le stories di La Dama Bianca e ascolterete dalla calda e sensuale voce della dama nera quando lei, nelle sue live, diceva tutte ste belle cose. Dato che lei mangia pane, è scordato. E adesso torniamo a bomba a quella che è la live in corso, che continua amenamente con la dama che fa simpatiche allusioni sulle amicizie di Davide e Luciana, mettendoci un bel carico di morbosa malizia. E intanto i trollini stanno a fare una vera e propria strage in chat, rendendo il tutto decisamente più sopportabile. A circa metà live succede un qualcosa di sconvolgente. Perché? Perché vengono inquadrati i due diplomi di Calogero, dove si attesta che lui sia un tecnico elettronico. No, vabbè, io mi astengo dal commentare. E giustamente, degli utenti sollevano dubbi in merito a questi diplomi. Dandogli di ciarlatani. Ebbè, migliore epilogo non potevano trovare. E passiamo ad un altro personaggio. Parliamo della nostra chiaretta, che giusto 15 ore fa ha caricato un nuovo vlog. Dal titolo, abbiamo assistito a una rissa? Che brutta cosa! Dio, ma che è tornato l'energumelo? Siete curiosi di sapere cosa è successo? No, e chi se ne frega? Tanto lo scopriamo lo stesso. Allora, era una tranquilla giornata autunnale e loro erano andati a ritirare la spesa che hanno fatto online. E dove? Da Carrefour. Lei, per questa uscita mondana, ha deciso di indossare una bellissima maglietta con... Bellissima, lo devo dire, il contratto, ma non lo penso. Con disegnata Hello Kitty, che abbraccia una zucca. Segue l'immancabile aggiornamento sul tempo e poi il video riprende direttamente da casa. Dove, innanzitutto, ci mostra delle cose a tema Halloween che andrà a sistemare per casa. E poi ci dirigiamo dritti dritti ai fornelli. Si parte col pelare le patate... Ho detto patate? Ops, volevo dire carote. Una volta pelate tutte le patate... Eh, che cazzo con queste patate? Le carote vengono tagliate a pezzi e messe a sbollentare. Nel frattempo che la pentola è sul fuoco, lei ne approfitta per condividere con noi quello a cui hanno assistito oggi. Allora, erano al Carrefour seduti in auto che aspettavano che i commessi preparassero la loro spesa. e c'erano due ragazzi che battibeccavano tra di loro. Uno era in bici e l'altro era a piedi ed entrambi alticci. Quando, all'improvviso, dal battibecco sono poi passati a litigare vero e proprio, tanto che è intervenuta la guardia del supermercato. E la faccenda si è risolta da lì a poco. Però, comunque, sia lei che Davide sono rimasti un po' traumatizzati nel vedere la scena. Che schifo di racconto. Bene, e adesso che siamo in conclusione di questo meraviglioso riassuntone, devo fare una piccola aggiunta a quello che ho già detto in precedenza. Nel corso di questa registrazione vi ho detto che chi fosse interessato ad ascoltare con le proprie sante orecchiette ciò che di malevolo è riuscito a dire la dama su Davide, doveva andare a seguire la pagina di la dama bianca. E cioè, guardare le sue stories e ascoltare con attenzione tutto ciò che è stato riportato dalla dama bianca e rilevato dalle live della dama nera. Madonna, che casino di dama! Bene, mi hanno informato poco fa che le stesse identiche storie la dama bianca le ha caricate anche qui su YouTube nel suo canale. E quindi, per chi non ha IG, può seguire le stories qui su YouTube. Poi, nel caso qualcuno non trovasse il canale, le può sempre chiedere e vi sarà fornito il link diretto al canale sopra citato. Bene, detto questo, a me non resta che salutarvi, augurarvi buona continuazione di serata ed invitarvi a seguire quello che sarà il prossimo contenuto. Ma, nel frattempo, che succede tutto questo? Un bacio a tutti da Gossip! Grazie a tutti! Grazie a tutti!